C'è dei bergaiieri, la conosci? La marcia, mamma, è bergaiere, c'è qua? Già, non darei detta all'estrato che cerca di mandarti fuori strada, no? Su marciavete, no? Su marciavete, no? E' un vecchio provermio toscano del sommo poeta, il batter Dante Alighieri. Fate, fate, Dante Alighieri che tu sei! Che dici? Non ti pular di loro, ma guarda il palazzo. Ti fico bene, ragazzi. Quando comunque seguiranno la marcia, chiacchia, è più trinta. Tu fai più spesso e guardi verso le tue amiche, ti faranno una foto, eccetera, eccetera. E' tutto pronto? Allora, benvenuti, chiara la paroletta di Palmarcia? Brava! Sì. Esatto! Un applauso al vento, che fa 4 mesi in ferie, a 4! Un attimo che la capiniera... Guarda, guarda, non c'è nessun senso di quelle di... ...che c'è nessun senso di... ...a rimettere un po' po' ...a tutto pronto! ...a tutto pronto! Chiara! 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 3-4 sono qui! Chiara, 10-4. Ah! C'è, devo fare una cosa? Ma va bene, lì, fiori, vettaci giù davanti alla gnocca, no? Giù, 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 giù. Giù, giù, giù. No, dentro, eh, davanti, ho dentro, che c'è... ...ma che c'è, casur con un quarto cinese? L' quarto cinese non vale niente. Vale poco, sì. E con la sinistra lo vieni, con la destra lo vedi, mi piccia, cazzo te! I... 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 ... ... ... Giara! E se i nostri anni fa, noi ci auguriamo la bottiglia. Noi, non resta, noi, non resta, noi... ...ma chiacchi, noi! Mi piccia, mi piccia, vai forti. Noi, no, ai, no, ai, no! Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.